Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza video guide certificate per una durata superiore ai 10 minuti, perché la vita è breve, l'arte è lunga. Bene, dopo questo sproloquio, vorrei presentarvi in questo video Pinterest. Pinterest non è una novità, l'ho già presentato, troverete i link ai miei video tutorial su Pinterest, che sono piuttosto consistenti e dettagliati da qualche parte qui, però ci sono state delle novità quest'estate, che hanno reso Pinterest ancora più efficace e utile, non solo nel marketing, ma anche nella didattica. Le novità riguardano la facilità nella ricerca, nell'attribuzione di un pin a una bacheca e nell'organizzazione dei pin all'interno di una bacheca. quindi abbiamo nuovi strumenti di ricerca e di organizzazione, che rendono molto più semplice gestire centinaia e centinaia di pin. Sull'importanza di Pinterest, sul suo utilizzo didattico, sul fatto che con Pinterest possiamo, come dire, addestrare, allenare e sviluppare negli studenti conoscenze e capacità riguardo a quella che è la selezione e il valio critico delle informazioni, la loro validazione, la loro certificazione, eccetera, ho già detto nei video tutorial di cui parlavo prima. Voglio solo ricordare che in questa epoca di sovraccarico informativo, information overload, uno strumento come Pinterest, cioè un social di condivisione di idee, informazioni e ispirazioni, che sono già filtrate da utenti esperti, costituisce un enorme vantaggio, perché seguendo determinati utenti, io ho il risultato della loro esperienza, della loro competenza in quel settore in cui sono esperti e quindi mi renderanno informazioni significative, documentate, certificate e validate dalla loro autorevolezza. Naturalmente si tratta di mettere alla prova questi utenti, quindi di seguire le bacchette di un certo utente per verificare se appunto presentano le caratteristiche che dicevo prima, autorevolezza, eccetera. Questo perché? Perché è impossibile per chiunque, anche per il più esperto e competente, seguire sull'argomento che gli interessa tutto quanto viene pubblicato, non dico in un mese, ma anche in un giorno, in poche ore, sul web. E quindi o ci uniamo insieme, intelligenza collettiva, per filtrare le norme amore di informazioni, o annegheremo nel mare del web. Andiamo a vedere queste novità. Come potete vedere mi trovo nella home page di Pinterest e mi vengono suggeriti tutta una serie di pin pubblicati dalle persone e dagli utenti che io seguo. Per esempio bagno romano. Come vedete quando mi posiziono, allargo un po' sopra il pin, compare automaticamente il pulsante salvataggio, cioè lo posso salvare automaticamente. E posso anche selezionare da questo menu a discesa la la bacheca in cui salvarlo, per esempio storia. Quindi abbiamo due strumenti che rendono estremamente rapido salvare il pin, prima era un po' più macchinoso e complicato, che sono il menu a discesa per attribuire una determinata bacheca e il pulsante di salvataggio immediato. Osservate una cosa, come mi posiziono, mentre qui non era comparsa nessuna bacheca, Internet ha sviluppato sistemi di intelligenza artificiale tali da apprendere i gusti, diciamo così, dell'utente, vedete che mi immediatamente suggerisce la bacheca in cui io posso salvare questo Adobe Spark, una storia, e mi suggerisce storytelling. Se io non sono soddisfatto, naturalmente posso cambiare bacheca. Posso anche selezionare all'interno della bacheca storytelling e didattica le sezioni che ho creato e salvarlo nella sezione che più ritengo pertinente. Come vedete se mi posiziono su altre sezioni mi vengono suggerite altre bacheche, mentre cliccando su questo link vado direttamente alla fonte. Ora passiamo a vedere le nuove funzionalità che facilitano la organizzazione delle bacheche e dei pin all'interno delle bacheche. Come vedete qui mi trovo all'interno della mia bacheca, questi sono i gli utenti che io seguo, come vedete sono tanti, e sono quelli che ho ritenuto affidabili, alcuni li ho scartati perché non mi soddisfacevano, e ho mantenuto quelli che mi danno informazioni affidabili e per me significative. Abbiamo una disposizione più razionale, qui abbiamo le bacheche, qui i miei pin, qui mi si chiede di commentare o aggiungere delle note, idee di altri che ho provato, e questi sono gli argomenti che io seguo, posso smettere di seguire o cercare nuovi argomenti. Ma andiamo alle bacheche, prendiamo per esempio una bacheca che è popolata di molti pin, abbiamo 420 pin, ecco qual è il problema qui, il problema è che come vedete ho troppi pin, è difficile trovare quello che cerco, e Pinterest nasce proprio per ordinare le idee, le idee fonte di ispirazione per esempio, o le risorse, in modo da poterle rintracciare facilmente, quindi come fare? Bene, pin ha introdotto la possibilità di individuare, anzi di creare delle sezioni, ma prima di vedere le sezioni, vedete, qui mi vengono suggerite dei temi, degli argomenti che sono simili al tema dei pin che io ho salvato. Ma andiamo subito a vedere come si crea una bacheca, bene, qui io potrei, dato che si tratta di applicazioni web o di app per dispositivi mobili, aggiungere una sezione in cui per esempio inserire tutte le, vedete, aggiungi sezione, pulsante più, dare un titolo, tutte le applicazioni per esempio per lo storytelling, potrei scrivere semplicemente storytelling e aggiungi. A questo punto come vedete ho una sezione vuota, la devo popolare di pin. Ecco, da un foto le pronto ho come realizzare un fumetto didattico, quindi ci sta bene in questa sezione storytelling. Come dovrò fare per inserirvelo? Bene, cliccherò sullo strumento matita, modifica, e come vedete mi compare la solita scheda, la bacheca, posso spostarla in un'altra bacheca, ma mi interessa in questo caso inserirlo nella sezione che ho appena creato. Clicco su questo simbolo e vedete abbiamo una sezione, la selezione è salvo. In questo modo viene inserito nella mia sezione. Riproviamo, qui Roberto Sconocchini mi suggerisce un altro strumento per creare storie animate, strumento modifica, storytelling e salva. Posso ovviamente gestire la mia bacheca sempre utilizzando lo strumento modifica della sezione, clicco, posso cambiare il nome o eliminare. Vi mostro ora il risultato finale di un utilizzo sistematico della funzione che vi ho appena mostrato, se si crea sezione, con la bacheca che ho creato per mio figlio Marco. Ecco qua, abbiamo come vedete una bacheca che presenta 98 pin, ci sono anche 334 follower, in cui ho ordinato le varie discipline per materia praticamente che lui studia. Quindi abbiamo la grammatica, ecologia, storia, geografia, inglese, italiano, matematica e così via. In questo modo io posso andare nella sezione e come vedete ho ordinato in una sottocartella per così dire i segnalibri grafici di Pinterest. Concludiamo adesso questo simbolo, il simbolo della condivisione, posso condividere in modo molto rapido o con una singola persona digitando il suo nome o sui social. È cambiata anche la strumentazione di cui dispongo quando clicco su una singola scheda, su un determinato pin, ecco per esempio cliccando su questo pin, come vedete ho la descrizione, ho il titolo, posso modificare, posso condividere, andare direttamente alla fonte e poi posso vedere le foto e i commenti, se ci sono commenti. Quindi anche in questo caso è stato migliorato l'efficacia, diciamo così, della gestione del singolo pin. Posso, vedete, condividere direttamente da qui oppure aprendo la scheda e poi cosa posso fare ancora? Posso segnalare il pin, perché spam, perché autolesionismo, nudità, insomma violenza esplicita, eccetera, oppure posso modificarlo. Sono quasi riuscito ad arrivare a 10 minuti, concludo con il pulsante segui che mi mostra a tutte le persone che io seguo e che devo ringraziare perché grazie a loro ho appunto risolto tanti problemi e ho conosciuto cose che non sapevo. Bene, questo è tutto, spero di esservi stato utile e vi ringrazio e buona giornata a tutti.